Investimento alle 12.10 di oggi a Domo Dossola in regione Nosere. Un'auto, una Maindra Go proveniente da Villa Dossola diretta a Domo per cause ancora in fase di accertamento, ha investito a H un sessantenne di nazionalità svizzera residente a Briga. L'uomo stava attraversando la strada, non era sulle strisce pedonali ma a poca distanza da esse. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio per la superstrada. Alla guida dell'auto un 38enne di Trasquera AR. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della stazione di Domo Dossola, mentre la polizia municipale si è occupata di regolare la viabilità. Il sessantenne è stato trasportato immediatamente all'ospedale San Biagio e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, anche se ancora sotto accertamento da parte dei sanitari ha riportato la frattura del bacino.